state per vedere un video della serie non era una brava persona rubrica dedicata a un approccio simpatico e senza pretese alla letteratura italiana come potete vedere il titolo è seguito da una faccina con un sorriso al contrario tale faccina detta anche emoji nel cerco visuale condiviso dalla società dell'immagine indica ironia scherzo ciò è volto a sottolineare che il suddetto titolo è ironico non dissacrante non sarcastico ironico avvertenze la visione del video è sconsigliata a chi prende la vita troppo sul serio e chi non è disposto a tollerare approcci poco accademici allo studio delle discipline umanistiche peace and love guys ah quest'ultima cosa non è ironica amiamo la letteratura italiana è di una bellezza disarmante oggi questo ciuffo non obbedisce alla mia volontà fa cose che sfuggono al mio controllo ma siccome voi non siete qua per pensare al mio ciuffo ma la letteratura italiana ce ne freghiamo dei suoi movimenti delle sue circonvoluzioni e torniamo a parlare di letteratura benvenuti o bentrovati a non era una brava persona la nostra rubrica dedicata alla storia della letteratura italiana da un punto di vista un po alternativo cerchiamo di ripercorrere le biografie dei grandi scrittori ormai lo sapete e non soltanto dei grandi cioè di quelli che compaiono praticamente in tutte le antologie scolastiche ma ogni tanto mi piace andare a scovare anche quei nomi meno conosciuti come il protagonista dell'episodio di oggi emilio praga se con massimo d'azeglio avevamo avuto delle difficoltà perché non tutti si ricordavano la sua presenza ma c'erano ancora dei resistenti impenitenti che avevano reminiscenze scolastiche abbastanza forti per cui mi avete potuto dire sì io lo so chi era massimo d'azeglio con emilio praga come siamo combinati ve lo ricordate chi era non lo so non lo so nei libri di scuola media vi assicuro che proprio emilio praga non c'è eppure come vi dicevo poco fa io credo che sia molto bello andare a recuperare gli scrittori meno battuti anche quelli un po marginali perché guardate che in questo caso stiamo parlando di scrittori che hanno avuto un ruolo anche piuttosto importante nella storia della nostra letteratura solo che poi finiscono un po nell'angolino perché perché succede questa cosa succede perché perché l'italia come tanti altri paesi è fatta di molte contraddizioni di negazioni di antitesi e accoglienza isolamento arte furore in qualche maniera convivono l'una con l'altra solo che cercare di trovare un inquadramento a ciò che si colloca fuori dal coro non è sempre facile è più semplice andare a inquadrare dei grandi generi e quindi il verismo il il decadentismo il simbolismo la letteratura partigiana cioè trovare delle macro categorie nelle quali andare a infilare a volte anche un pochino a forza determinati scrittori perché così è più semplice no comprenderli dare un quadro contestuale generale quando c'è qualcuno che invece è un po così un po diverso un po alternativo trovargli una collocazione complicato ci possono essere delle definizioni come in questo caso come vedremo fra poco però non è sempre così semplice dare una cornice arbitraria anzi piuttosto limitante però siccome a noi piace andare a scavare proprio queste contraddizioni questi aspetti che sono difficili da inquadrare emilio praga ora mi perdonerete mi perdonerete perché io purtroppo per cominciare a parlare di emilio praga dovrò fare una premessa storica che lo so potrebbe essere un pochino noiosetta però tranquilli non è morto mai nessuno per qualche minuto di storia ma se avete sviluppato una forma allergica di qualche genere e siete anche resistenti agli antistaminici perciò proprio di storia non ne volete sapere saltate questi primi cinque minuti andate direttamente più avanti e comincerete a scoprire di chi si tratta chi era emilio praga e quali sono state le varie avventure che hanno caratterizzato la sua vita che cosa è successo in italia quindi quadro storico premessina storica c'è stato il risorgimento no l'italia finalmente unita lo ricordate lozio ale massimo d'azeglio che poi era il genero tutta la comitiva uscivano insieme si facevano la pericena ecco ora la situazione si è un po stabilizzata perché l'italia finalmente per lo meno sulla carta è unita ma appunto come diceva lo stesso d'azeglio fatta l'italia bisogna fare gli italiani perché in effetti l'italia in quel momento ha un milione di problemi anzi 26 milioni come gli abitanti dell'italia nel 1861 che cosa è successo a livello economico ci sono stati una serie di problemi poi con la col potere di crispi mentre il nord comincia un po ad affermarsi anche dal punto di vista industriale con delle prime delle aziende che cominciano ad avere anche un determinato impatto sul territorio invece al sud si resta piuttosto arretrati c'è molta molta disparità fra nord e sud italia e fra l'altro le nuove normative protezionistiche invece di stimolare gli investimenti al sud fanno sì che i capitali vengano impiegati ma per operazioni speculative che non è che siano particolarmente redditizie fra l'altro abbiamo anche un altro problema legato proprio alla questione dell'alfabetizzazione considerate che all'indomani dell'unità d'italia i dati statistici riportano che soltanto il 2 per cento della popolazione italiana sapeva parlare l'italiano sì il 2 per cento ora non so quali sono i dati attuali e mi dovrei informare probabilmente saranno di più anche qui almeno sulla carta no no sono di più scherziamo solo che anche qui di qual italiano stiamo parlando perché l'italia è unita ma esiste una lingua italiana oppure no vi ricordate che l'ozio ale diceva che l'italiano doveva essere basato sul fiorentino colto il fiorentino di una certa classe non era l'unica teoria c'erano delle altre come per esempio quella proposta da grazie a dio isaia ascoli sì è il suo nome vero non sto facendo nessuna presa in giro è proprio così il suo nome e gli studenti di linguistica generale probabilmente lo conoscono quelli che non hanno magari mai approcciato dal punto di vista proprio dello studio certi argomenti un po meno si tratta di un linguista molto famoso che ha elaborato una una possibile applicazione quale italiano doveva essere parlato fra tutti doveva essere scelta una variante che unisse alla tradizione anche una certa popolarità cioè doveva essere costruito un nuovo italiano che si basasse su delle varianti di vario genere quando nei libri di scuola si guarda questo periodo storico no il risorgimento e tutte quelle storie che abbiamo raccontato si fa un pochino riferimento a dei monoliti come se ci fossero dei quadri che identificano perfettamente tutto quello che sta accadendo e che noi possiamo riassumere semplicemente così come fanno i libri di scuola positivismo in filosofia capitalismo in economia naturalismo nell'arte ora però siccome le cose non sono mai bianche o nere effettivamente ridurre tutto a questi binomi è veramente molto molto limitante nonché fuorviante perché non è così che stavano le cose basti pensare soltanto alla diffusione del pensiero di marx ed engels e quindi la critica nei confronti del capitalismo ogni volta che nasce un'ideologia c'è sempre poi l'altro lato della medaglia ci sono le controcorrenti appunto le voci fuori dal coro e così mentre si affermava a livello artistico culturale anche letterario il naturalismo nascevano però delle controcorrenti sapete cos'è la cosa interessantissima una cosa proprio bella secondo me che il primo movimento reale concreto a livello letterario dell'italia unita non è un modello che porta la bandiera italiana cioè non è un modello che rappresenta l'italia post unitaria post risorgimentale anzi questo primo movimento rappresenta proprio le voci di coloro che negli ideali etici e politici dei padri non si riconoscono proprio vogliono farsi sentire una voce che alternativa che viene elaborata da un modello estero francese in francia questa specie di atmosfera di stile di vita si chiama bohem e in italiano viene tradotto in modo anche un po così poco poco fedele poco letterale ma comunque viene tradotto scapigliatura sì i scapigliati sono loro emilio praga faceva parte della scapigliatura questo movimento letterario nato a milano e ci voglio ben credere a milano nel corso di questo periodo della storia italiana perché a milano perché milano a differenza del sud italia era una città già allora piuttosto movimentata viva c'è anche dal punto di vista industriale c'erano tante realtà e nelle città che sono così divide e così aperte nei confronti dell'innovazione sorgono anche tutte quelle contraddizioni tipiche delle realtà del tempo fra l'altro stiamo parlando in una città già piuttosto popolata che contava addirittura ve lo dico precisamente perché poi con i numeri ci sbagliamo la bellezza di 192 mila abitanti e anche qualcosina di più era il 1862 quando cletto arrighi pubblicò un romanzo intitolato la scapigliatura è il 6 febbraio questo titolo così scelto appositamente fu poi attribuito a questo movimento letterario un movimento caratterizzato appunto da anticonformismo da anti perbenismo erano contrari ai valori per bene della borghesia e invece proponevano questi scrittori questi poeti questi letterati un'idea di vita regolata maledetta sul modello dei poeti francesi in particolar modo deus ex machina che spunterà diverse volte nel video di oggi baudelaire con il suo i fiori del male che io vi dico in italiano non ci provo nemmeno a dirlo in francese perché come vi ho detto in altre occasioni il francese ce l'ha con me gli esponenti di questo movimento come dicevo non erano esattamente dei bravi ragazzi coltivavano una serie di vizi e proponevano un modello di vita appunto maledetto sregolato incoraggiavano i lettori all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti insomma non erano proprio gli amici con cui la mamma ti manderebbe volentieri a fare la spesa però hanno proposto un modello di letteratura estremamente interessante è un gran peccato che non vengano studiati a scuola che non gli si dedichi sufficiente tempo a volte proprio vengono messi da parte ma noi siamo qui per questo proprio per recuperarci lì e perciò da oggi alle prossime settimane impareremo a farci gli amici a cominciare da emilio praga eccolo qui emilio praga uno degli esponenti di questo movimento che bel nome che ha io lo trovo bellissimo emilio queste reminiscenze un po russoiane no l'emil di russo e poi il cognome praga ma che bello praga chiamarsi di cognome con il nome di una delle città più belle misteriose e alchemiche dell'europa c'è proprio una bellissima combinazione complimenti emilio praga bello questo nome ti è riuscito bene nacque a gorla un quartiere della periferia nord orientale di milano oggi nel 1839 suo padre giuseppe era un uomo benestante tra l'altro un amante delle belle lettere era amico di porta scrittore rinomato in dialetto milanese e si occupava aveva una conceria di quindi si occupava di lavorazione delle pelli e non se la passava per niente male economicamente la madre invece si chiamava annetta il cognome non ve lo so dire perché le fonti sono discordanti in merito ed era una donna a cui piaceva la bella compagnia le belle chiacchiere infatti frequentava i salotti più in vista all'epoca in particolare due quello di clara maffei e quello di ermellina maselli d'andolo emilio era appassionato tanto di letteratura quanto di arte in realtà probabilmente prima di arte si appassionò di colori di pittura e iniziò a studiare iniziò a studiare fomentato anche dal padrino che era un medico nonché scrittore e che gli disse visto che sei portato per le belle lettere per l'arte perché non cominciare a dedicarti a queste tue passioni e per questo iniziò a studiare con luigi riccardi il quale lo descrive con queste parole un giovinetto pallido dal viso sparuto e intelligente ora se volete qualche dettaglio sulle caratteristiche fisiche di emilio praga non ci riferiamo ai suoi amici in modo che non ci mettiamo in bocca parole che non ci competono un caro amico suo che si chiamava fernando fontana scusate già rido perché l'ho scritto prima quindi so che cosa sta per dire lo descrive in questa maniera non proprio gentile dice così su un corpo mingerlino e nervoso aveva un capo grosso quasi da idrocefalo gentile devo dire amico gentile ce n'è un altro c'è un altro un pochino meglio questo si chiama luigi gualdo e diceva sovra un corpo sottile strano che vuol dire un corpo strano poi che significa un corpo strano vabbè posava una testa un po grossa a capelli folti io ve l'immagino tipo cavarezza vabbè dalla fronte non alta ma prominente dalle ciglia celanti due occhi piccoli aspetta che ancora non è finita sonnolenti che a un atto s'accendevano per un gesto o una parola insomma forse non era proprio geson momo grazie ai soldi di papà comincia a compiere una serie di viaggi per l'europa prima va in terlaken e in svizzera poi va in olanda poi si ferma in francia perché comunque il fascino della francia chiaramente lo richiamava e in particolar modo si ferma a parigi dove ha l'opportunità di leggere diversi scrittori francesi è uno fra tutti naturalmente baudelaire col suo i fiori del male che lo colpisce in maniera indimenticabile per sempre tant'è vero che si porterà dietro questa lezione anche in italia mentre viaggia sfruttando il portafoglio di papà da una parte all'altra dell'europa prende appunti e questi appunti diventeranno poi i bozzetti sia per dei suoi dipinti che per dei componimenti di carattere poetico perché principalmente non solo ma principalmente il nostro emilio praga era un poeta ora emilio aveva anche un'altra caratteristica che probabilmente lo rende vicino e simile a noi odiava la scuola in particolar modo odiava alcuni insegnanti e io capisco che è una sensazione piuttosto comune guardate che è successo anche a me io ho avuto dei rapporti abbastanza conflittuali con alcuni docenti nel corso della mia vita di studentessa e sono sicura che lo stesso tipo di rapporto conflittuale poi adesso io lo stia trasferendo nei confronti di altri perché un po una cosa fisiologica a lui capita anche questa esperienza e vi racconto questa storia lui aveva un pessimo rapporto con il suo professore di greco che lo annoiava terribilmente al punto tale che lo stesso emilio praga era quasi giunto ad odiare omero per colpa della mediazione fatta da questo docente che gli risultava piuttosto noiosetto un giorno questo docente diversi anni dopo la fine della scuola si presenta a casa di emilio cioè voi immaginatevi questa situazione vi bussano alla porta vi suonano alla porta chi è pensate che sia amazon col pacchetto dei libri che avete appena comprato no comunque che cosa fa chi è che che ha apre e chi vi trovate lì davanti professore di matematica del liceo che vi ha messo quel 4 che vi ha stroncato per sempre la vita vabbè potrebbe essere un professore di qualsiasi cosa è latino italiano storia ci mancherebbe io ho citato la matematica così tanto per qualsiasi cosa ecco lui si trova davanti questa situazione apre la porta e chi c'è lì davanti il suo professore di greco rimane sconvolto cioè davvero è una cosa che ti può rovinare la giornata me ne rendo conto perfettamente e lo dico da membro della categoria quindi apre questa porta lo fa entrare inizialmente la tentazione vorrebbe essere quella di buttarlo fuori poi però ad un certo punto comincia a parlare con lui e la cosa bella è che si rende conto che in realtà questa opinione piuttosto negativa che aveva nei confronti del maestro di greco probabilmente era anche un po così il risultato di un ricordo e anche di un'impressione giovanile che lo aveva sicuramente sicuramente condizionato ora questa storia emilio fraga ce l'ha raccontata in una poesia che si chiama per l'appunto il professore di greco di cui vi leggo qualche pezzetto che poi è la storia che vi ho raccontato io tanto per arrivare al finale dice così il lungo e magro professor di greco che quasi odiarmi fece il divo mero fu stamane a vedermi al mio studietto la tavolozza mia si tinse a nero e io lasciando i pennelli con dispetto il guatai torvo e vieco e certo c'è quello stava facendo il suo dipinto un bello tranquillo la tavolozza addirittura la tavolozza mia si tinse a nero cioè vede sto professore la sua tavolozza al lutto peggio il funerale che all'entrar suo mi rientrò nel core tutta la noia dei passati inciampi quando fanciullo pallido e sparuto alle dolci anelavo aure dei campi e avrei peggiochi del sempion venduto e troia il suo cantore ma poi ch'io vidi l'uom già inuggia tanto incanutito e sofferente e stanco l'antica bile mi sfuggì dal petto e fissai mestamente il suo crim bianco quindi era partito malissimo voleva dare alle fiamme il cantore dell'iliade e invece a un certo punto si accorge che questo professore di greco com'è è incanutito cioè ai capelli bianchi sofferente e stanco lo fa entrare si chiede ma diverso da come me lo ricordavo io e così il professore comincia a parlare poi mi narrò dei suoi lunghi malanni e delle pene della sua famigliuola sentirsi affranto e avvelenato ormai dall'afa sempre uguale della scuola che figli toglie il ricrearsi ai rai del sole agli ultimi anni e quindi anche il professore in fondo si è un po stancato di andare a scuola tutti i giorni di non potersi fare delle passeggiate durante queste belle giornate di sole primaverili dover stare lì un po ad ammuffire su queste cattedre sempre uguali e a un certo punto il professore guarda i dipinti di emilio praga e gli dice o quanti nuovi lidi quanta stesa di cieli e di marine tu vedesti e pur giovane sei tanto ed io nulla mai nulla vidi povero vecchio ed io fui crudo tanto da attristargli la già misera vita su versi miei seguitelo per via ditegli voi che col greco è svanita ogni rancura e che quando egli uscìa dalla mia stanza ho pianto allora anche emilio praga aveva un cuore anche lui che aveva tanto odiato questo professore di greco che gli aveva fatto provare una noia interminabile in quelle giornate del miglior tempo della sua gioventù in cui forse avrebbe preferito vagare un poco per i campi adesso capisce che dietro il ruolo il registro la veritica l'affanno c'è una persona un mondo chissà un'incomprensione dopo i numerosi viaggi il nostro ritorna nuovamente a milano e qui inizia a frequentare i salotti fra cui quello di vittoria cima una donna anche piuttosto simpatica ironica una a cui piaceva stare allo scherzo tant'è vero che lui le dedica alcune poesie che sono state ritrovate recentemente in cui la prende bonariamente in giro e lei stava allo scherzo le piaceva si divertiva avere tutti questi gaudenti giovani poeti che affollavano la sua casa emilio praga in questo periodo scrive e pubblica la prima raccolta di poesie che si chiama tavolozza vedete il nome il nome è indicativo no perché lui appunto era anche un amante della pittura perciò nella sua poesia vuole trasferire un po tutte quelle sensazioni impressioniste che derivavano dall'osservazione del mondo e da quegli appunti che aveva fatto bene a prendere durante i suoi numerosi viaggi era il 1862 lui continuava a passarsela alla grande economicamente a spendere soldi di qua e di là anche per capricci nonché per vizi ed eccessi e decise appunto a proprie spese di pubblicare questa raccolta fece quello che oggi i scrittanti tanti scrittori esordienti conoscono molto bene col termine inglese di self publishing cioè autopubblicazione che non è una novità del 2000 è una cosa che esiste praticamente da tanto ma proprio da tanto tempo questa raccolta in particolare tavolozza però non è soltanto una descrizione del paesaggio bello bucolico lidilio no perché altrimenti non sarebbe uno scapigliato no in realtà in queste poesie lui esaltava una serie di cose oltre alla bellezza del paesaggio come ad esempio l'orgia l'incesto il suicidio e l'abuso di stupefacenti insomma sempre raccomandabile no aspetta avete sentito questo rumore un tonfo sordo è il corpo dell'ozioale che si sta rivoltando dentro la tomba oppure il suo spirito reincarnato che cadde come corpo morto cade no questo era dante alighieri non lo scomodiamo per carità che sennò facciamo confusione anche se questo è l'anno dantesco no restiamo nei ranghi restiamo dentro la questione quindi ritorniamo a noi emilio praga il 1862 è anche l'anno in cui emilio praga contrae matrimonio con annetta benfereri si si chiamava annetta come sua madre proprio uguale uguale spiccicato e in questa occasione è molto fortunato perché riesce a trovare una che s'accolla tutte le sue malefatte e ci fa pure un figlio marco marco praga futuro grande commediografo nonché per un certo periodo direttore della siae società italiana autori ed editori recentemente nata e che fra l'altro noi ringraziamo perché da tanti tanti anni tutela la proprietà intellettuale questa donna appunto intraprende con lui questo matrimonio che insomma un matrimonio piuttosto piuttosto complicato anche perché lui non è proprio un marito presente e preferisce passare il tempo in altri modi ad esempio con gli amici in particolar modo con uno che praticamente sta sempre appiccicato a lui ed è arrico boito insieme ad arrico boito scrive una commedia di poco successo si intitolava le madri galanti e fu rappresentata a torino ma appunto non ottenne una grande approvazione da parte del pubblico insieme sempre ad arrico boito perché la sua compagnia gli piaceva tanto tanto diresse per un periodo la rivista o diresse lavoro lavoro diciamo lavoro che non sono sicura che la diresse però ci lavoro alla rivista figaro breve periodo sempre insieme perché ormai l'abbiamo capito sono best friend forever partirono per partecipare all'impresa di garibaldi in trentino la fortuna però gli volta le spalle ad un certo punto perché sì la fortuna volta le spalle anche più temerari soprattutto se la temerarietà è stata costruita sulle spalle dei nostri genitori e non su quelle nostre e fino adesso emilio ha usufruito largamente delle fortune di famiglie morto il padre non può più farne affidamento anche perché succedono una serie di cose per cui insomma cade in disgrazia non ha più soldi fine della festa che cosa si fa rimane con le sacchette vuote come si dice dalle mie parti e si deve organizzare vuole pubblicare un'altra raccolta di poesie questa la verrebbe intitolare pen ombre poi effettivamente la intitola così ma non ha più soldi allora gli amici organizzano un crowdfunding cioè vabbè mettono insieme un po di cose fanno una colletta e gli permettono di pubblicare questa raccolta 55 poesie divise in tre sezioni intitolate così meriggi vespri e mezzenotti a questa raccolta poetica fa parte una delle poesie più famose di emilio praga forse una delle poche che ogni tanto si trovano nei libri di scuola e che si intitola preludio è considerata in un certo senso un po il manifesto effettivo della scapigliatura milanese cioè che cosa si intende che cosa volevano questi poeti e ve lo dico citandovi i primi quattro versi noi siamo i figli dei padri ammalati aquile al tempo di mutare le piume svolazziamo muti attoniti affamati sull'agonia di un nome in questi quattro versi tutto ci richiama il senso della decadenza del finire siamo figli di padri ammalati questo senso della malattia della caducità della precarietà è una costante di questa letteratura un po zingaresca della bohème e poi la ritroveremo in italia anche con i crepuscolari ma già in loro c'è un grandissimo germe questo senso dell'essere fuori dal coro dell'essere appestati dell'essere ammalati e soprattutto di trovarsi in una condizione che è quasi al punto della fine infatti ci dice agonia di un nome è il punto in cui il nome sta agonizzando cioè pronto per finire ed è proprio questa la sensazione di estranietà di star fuori di non far parte di un gruppo ma poi in un certo senso anche di raggrupparsi fra loro che caratterizza questi scrittori la situazione economica del nostro emilio praga peggiora di giorno in giorno non riesce a tenersi un lavoro troppo a lungo e annetta comincia a sbuffare a questo punto decide di intervenire la mafei vi ricordate quella del salotto che lui frequentava insieme ad arrico boito insieme a tanti altri ecco la mafei era stata anche conoscente amica della madre e quindi un po per dovere nei confronti dell'amicizia un po anche perché la moglie le fa pena decide di intervenire per salvare la situazione del rampollo avete presente quegli adolescenti irrequieti molto molto energici ai quali si consiglia di intraprendere delle attività per canalizzare un po questa tracotante energia che so lavori socialmente utili un certo tipo di attività sportiva ecco la mafei decide di intervenire in prima persona per aiutare il nostro emilio a trovare un impiego solo che lei ha conoscenze nelle altre sfere quindi non gli trova il part time il sabato alla domenica nel panificio no lo sistema come professore universitario sì vabbè capito suggerimento della mafei e lui senza concorsi senza pubblicazioni diventa professore universitario va bene nel 1865 gli viene conferita niente meno che la cattedra di letteratura poetica e drammatica al conservatorio di milano il problema è che emilio praga non è in grado di mantenere questo ruolo molto spesso non si presentava a lezione lasciando basiti i suoi numerosi studenti e a volte non si presentava perché aveva cose migliori da fare come ad esempio sfidare la gente ai duelli c'è stato un caso famoso che vi riporto che cos'era successo in pratica su un giornale era uscito un trafiletto diciamo poco lusinghiero nei confronti del nostro emilio praga e lui non accetta la critica il trafetto diceva così lo definiva genio incompreso talento fallito che poi voglio dire era un 50 50 genio incompreso talento fallito lui evidentemente si è affigliato al talento fallito non era evidentemente un tipo particolarmente disposto ad accettare le critiche e quindi sfida duello il direttore del giornale che si chiamava chille bizzoni il quale però si rifiutò di partecipare a questo duello la situazione continua a peggiorare negli ultimi anni fra l'altro la carenza di pecunia lo porta a fare una serie di attività di lavori che in realtà non avrebbe nemmeno voluto fare però li fa perché vedete quando manca pane sulla tavola poi uno cerca di fare la qualsiasi accetta di fare qualsiasi cosa pensate che a un certo punto questa è bellissima accettò di fare la revisione di un libretto sui promessi sposi che sarebbe stato musicato da milcare ponchielli libretto che era stato scritto a sei mani da altri autori e di cui lui doveva fare soltanto la revisione cioè praticamente sistemare le allitterazioni e punte virgola di un'opera tratta dai promessi sposi cioè capito torna lo zioale come la strena lui torna sempre praticamente sempre in qualsiasi momento vedrete che l'italia dovrà sempre fare i conti con lui è il nostro punto di riferimento è il nostro mito grazie zioale ora è sempre nel frattempo prova a scrivere un romanzo così per piacere personale per compensare queste tristissime situazioni nelle quali si ritrova su malgrado coinvolto questo romanzo si doveva intitolare memoria dal presbiterio poi questo fu il titolo ma non lo completò lui lo terminò un amico roberto sacchetti perché lui non riuscì a finirlo era un romanzo anche interessante con delle atmosfere che richiamavano un po' ed caral lampò in particolare guardate che questa cosa di lasciare i romanzi incompiuti e poi farli finire ad altri scrittori post morte ma è una caratteristica di questo periodo lo vedremo anche con altri scrittori la situazione volge verso il drammatico annetta ormai esausta delle continue assenze del marito e della sregolatezza con cui conduce la sua vita abbandona il tetto coniugale porta con sé il figlio marco emilio a questo punto viene ospitato dal fratello che ha un posto dove farlo stare vicino alla fabbrica appunto dal vicino al posto di lavoro e qui si consumano poi gli ultimi gli ultimi anni l'ultimo periodo della vita di emilio sapete sempre che gli studenti sono appassionati vogliono sapere come le persone muoiono come finisce la loro vita c'è questo aspetto di curiosità morbosa che li caratterizza ma in realtà nel caso di emilio praga è abbastanza prevedibile quello che gli è successo una vita dedita agli eccessi all'abuso di alcol alla sregolatezza insomma muore per le conseguenze di questo tipo di vita di eccessi e aveva soltanto 36 anni quando si spegne il 26 dicembre giorno di santo stefano del 1875 a milano e fu poi sepolto nel cimitero di porta magenta questa questa è l'avventura di emilio praga perché perché ve l'ho voluto raccontare perché sono belli questi scrittori un po diversi da quello a cui siamo abituati ci mostrano che la letteratura italiana non è soltanto quello che arriva da un certo tipo di percorso a volte anche piuttosto inserito in un binario ma è fatta di tante altre cose e io mi dispiaccio sempre quando sento dire è ma la letteratura russa è molto più bella è ma la letteratura francese vuoi mettere la letteratura tedesca cosa allucinante sì sono d'accordo sono delle letterature stupende io amo tanto i russi quanto i francesi quanto i tedeschi però io credo che anche noi abbiamo un bellissimo bagaglio letterario che a volte non viene considerato nella sua vastità e nella sua ricchezza ci fa storcere il naso perché siamo tendenzialmente esterofili anch'io lo sono molto spesso e lo ammetto però dobbiamo forse fare un passo indietro un passo umile indietro e riguardare quello che la nostra letteratura italiana ci ha dato perché patrimonio della nostra terra patrimonio del nostro paese e patrimonio di un paese che ha una bellezza artistica e culturale strepitosa che fa veramente rabbrividire mezzo mondo perché perché bellissima perché veramente veramente bellissima io vi ringrazio per essere stati con me e col mio ciuffo fino alla fine di questo video noi ci vediamo venerdì con un prossimo appuntamento qui sul canale e con non era una brava persona martedì prossimo grazie per essere stati con me fino alla fine e ciao ciao